Canale YouTube di Luigi D'Avio Maul Flanders, una self-made woman Maul Flanders è un romanzo di Daniel Defoe Ecco, dobbiamo riconoscere il debito del lavoro di Elena Di Lorenzo, Adriana Magrone, Maurizio Martiradonna e Oliva la cui presentazione in PowerPoint è stata utilizzata da me come base per questa lezione per questa riflessione e approfondimento su Maul Flanders di Daniel Defoe Chi è Daniel Defoe? Nato a Londra nel 1660, morto sempre a Londra nel 1731 è un mercante, un giornalista, agente segreto e affarista Ecco, ovviamente, insomma, questi affari Per esempio, viene arrestato per la pubblicazione di un libro diffamatorio e appunto va in prigionia a Newgate e Newgate è uno dei luoghi più importanti, più significativi del romanzo Maul Flanders è evidente, pertanto, che questo romanzo ha dei caratteri velatamente autobiografici anche se ovviamente la protagonista è una donna e non un uomo e oltretutto a Newgate ci è arrivata per furti, insomma e non per un libro diffamatorio però è chiaro che si trattava di un ambiente che Daniel Defoe conosceva bene perché c'era stato anche lui in carcere Ecco, intanto l'Inghilterra tra 600 e 800 come potete vedere diciamo nella striscia cronologica nella linea del tempo che si trova qui a destra segna alcuni passaggi fondamentali come il Bill of Rights questo documento dei diritti Luigi XV diventa re di Francia nel 1715 nel 1719 Daniel Defoe scrive Robinson Crusoe che è l'altro romanzo probabilmente più famoso di Maul Flanders qui dedichiamo una lezione mentre Maul Flanders lo scrive tre anni dopo nel 1722 poi ci sarà solo nel 1775 la rivoluzione americana pertanto l'America ben presente nel romanzo Maul Flanders è ovviamente una colonia inglese è un insieme di colonie in particolar modo nel romanzo si fa accenno ci sono due parti del romanzo in cui la nostra protagonista vive in Virginia per quanto riguarda diciamo quelli che sono gli impieghi di Daniel Defoe mercante beh questo invece sarà più interessante più importante per il romanzo Robinson Crusoe vaga per l'Europa va in bancarotta apre una fabbrica per saldare il debito come abbiamo detto viene arrestato per la pubblicazione di questo libro di fama diventa agente segreto per necessità economiche anche in questo una piccola analogia con Maul Flanders che deve sbarcare il lunario anche lei ovviamente diciamo in difficoltà economiche forti e però come abbiamo già anticipato intanto è uno degli aspetti più conosciuti di questo romanzo per andare per cercare di continuare a vivere in un modo secondo lei per lei più congeniale si dà al furto sta di fatto che questo romanzo ha dei caratteri realistici ora io non voglio assolutamente dire che questo romanzo anticipi i romanzi di Dickens ad esempio però è chiaro è evidente che c'è un aspetto di realismo molto importante interessante soprattutto per un romanziere degli inizi del Settecento è chiaro quindi che la novità c'è la grande novità di Daniel Defoe che parla della realtà pensate alla peste di Londra che è soggetto invece di un altro libro di Daniel Defoe e quindi è uno scrittore estremamente moderno a un certo punto Daniel Defoe fonda il The Review la rivista inaugurando così il giornalismo moderno ecco passiamo quindi adesso a parlare diciamo della trama di Maul Flanders c'è anche una specie quasi di sottotitolo fortuna e sfortune della famosa Maul Flanders incomincia il romanzo proprio con la sua infanzia estremamente movimentata lei nasce nel carcere criminale di Newgate dove si trovava sua madre appunto incarcerata poi viene affidata a una madre adottiva poi alla morte di questa entra in una famiglia aristocratica come dama di compagnia da questo momento in poi la sua vita è scandita da un susseguirsi di vicende amorose di uomini di mariti eccetera ecco si tratta di un romanzo che scorre tutta quanta la vita di Maul Flanders è narrato in prima persona perché è lei stessa settantenne che ricorda tutta quanta la sua esistenza per 12 anni fu prostituta 5 volte fu sposata uno delle quali con il fratello anche se lei non lo sapeva ma era il fratello cioè perché come abbiamo detto è stata abbandonata dalla madre 12 anni ladra 8 anni deportata in Virginia e alla fine diventò ricca visse onesta e morì pentita e scrisse appunto le sue memorie mi spiace se vi anticipo diciamo anche insomma come va a finire questo romanzo però è evidente che questo approfondimento come sempre ha una valenza essenzialmente didattica e quindi diciamo che insomma ha questo valore quindi serve come sempre tutti i miei approfondimenti per aiutare gli studenti soprattutto o i docenti ecco stavano dicendo quindi che io vorrei un attimo soffermarmi comunque sulla prima parte della vita di Moll Flanders nella quale come abbiamo detto lei fu affidata a una madre adottiva ecco tra l'altro c'era una donna che l'aveva accudita nei primi anni della sua vita e le aveva insegnato tra l'altro il mestiere del cucito e proprio avendo appreso questo mestiere lei fa di tutto per non essere venduta come serva andare a lavorare in servitù presso una famiglia cercando quindi di guadagnarsi da vivere e poi comunque dicevamo entra in questa famiglia aristocratica come dama di compagnia questa in un certo senso fu la sua fortuna perché le permise di vivere più agiatamente ma fu anche la sua sfortuna perché incominciarono tutte le sue traversie e anche i suoi amori tormentati e spesso diciamo fallimentari ecco il primo amante infatti partiamo dalla da questa colonna a sinistra fu il figlio maggiore di questa famiglia aristocratica ospitante nasce quindi qua una storia come dire di una passione amorosa molto molto intensa che i due riescono perfettamente a nascondere al figlio minore cioè al fratello di questo figlio maggiore e alle sorelle con l'intento ecco una volta che le condizioni possano permetterlo che il figlio maggiore possa sposare Moll Flanders o quantomeno consentirle di vivere agiatamente insieme con lui sta di fatto che poi però si mette di mezzo il figlio minore cioè il fratello minore di questo figlio maggiore che era insomma l'amante di Moll Flanders ebbene questo figlio minore si innamora anche lui di Moll Flanders ma con una modalità totalmente diversa anzitutto non corrisposta quindi da Moll Flanders che era innamorata del fratello maggiore e poi comunque spifferando tutto in famiglia anzi diciamo esplicitando la sua intenzione di sposare Moll Flanders e quindi creando scompiglio in famiglia scandalo perché si trattava essenzialmente di una domestica soprattutto da parte dei genitori comunque alla fine di questa tormentatissima vicenda il figlio maggiore fratello maggiore riesce a convincere Moll Flanders a lasciarlo e a sposarsi con il fratello con il fratello minore la vicenda ovviamente è piuttosto complicata nel senso che Moll Flanders continuava ad amare il fratello maggiore ma fu costretta a sposare il fratello minore anche dallo stesso fratello maggiore benché lui questo fratello maggiore avesse più e più volte promesso a Moll Flanders di dedicarsi a lei per tutta la vita una cosa importante è che non si dice il nome di questi fratello maggiore fratello minore comunque sta di fatto che Moll Flanders si sposa la prima volta il marito che è il figlio minore capite il fratello minore si dimostra comunque un marito premuroso buono e quindi comunque il matrimonio risulta meno disastroso di come l'aveva visto Moll Flanders in un primo tempo sta di fatto comunque che dopo 8 anni lui questo fratello minore muore e Moll resta vedova a questo punto lascia è costretta a lasciare questa famiglia finge di essere ricca e abbandona i figli alle cure dei parenti e sposa un secondo uomo che è un mercante benestante che però poi va in carotta viene arrestato ma evade e fugge dall'Inghilterra a questo punto comunque diciamo che perde anche questo marito in questo modo un po' particolare che come abbiamo visto prima un po' assomiglia a quella che è anche una parte quantomeno della vicenda biografica di Daniel Defoe a questo punto lei però trova un uomo buono simpatico dolce che diventa il suo terzo marito con il quale si trasferisce in Virginia ma che cosa scopre a un certo punto parlando con la sua suocera quella che doveva essere la sua suocera cioè la madre di suo marito da tutta una serie di racconti di lei viene a capire che lei era stata in prigione e che aveva avuto una figlia in prigione e lei Molflanders capisce intuisce che la figlia che è nata in prigione è proprio lei quindi quella non è sua suocera è sua madre è quello che ha sposato non è suo marito ma è un fratello prima di tutto comincia a rodersi perché tiene dentro di sé questo segreto però inevitabilmente quel rapporto d'amore che aveva d'amore matrimoniale insomma che aveva con il marito si trasforma in un rapporto di orrore perché diciamo profuma di incesto perché lei sa benissimo ha capito benissimo che quello lì non è semplicemente suo marito ma è fratello e a questo punto non può tenere segreto e lo rivela lo rivela prima a sua madre che è ovviamente angosciata da questa rilevazione rivelazione scusate e poi lo rivela al marito questo genera uno scandalo un dramma una tragedia totale nella famiglia e l'impossibilità per Moll di rimanere lì pertanto Moll Flanders torna in Inghilterra attenzione una cosa importante è la questione dei nomi ma ci ritorneremo Moll Flanders in realtà era chiamata così quando poi vedremo diventa una ladra ma non è detto che questo sia il suo vero nome dopodiché incontra un uomo in Inghilterra quando ritorna in Inghilterra che diventa il suo secondo amante dalla loro relazione nasce un figlio illegittimo e dopo uno stato di malessere comunque i due si lasciano il terzo amante di Moll Flanders che è bella bellissima una donna bellissima è un banchiere sposato con una donna adultera promette di sposare Moll quando divorzierà a questo punto lei finge nuovamente di essere una ricca vedova anche aiutata da una governante da una donna insomma e viene avvicinata da un altro uomo che è in cerca di moglie un uomo del Lancashire ebbene lui si innamora perdutamente di lei oltretutto credendo la ricca e lei si innamora perdutamente di lui quando però poi si sposano perché questo diventa il quarto marito di Moll Flanders lui scopre che lei è povera però lei dice non me l'hai mai chiesto hai sempre detto di volermi amare di volermi sposare anche indipendentemente dalla mia dote diciamo e quindi adesso questa è la realtà di fatto questa scoperta conduce inevitabilmente i due a lasciarsi Moll Flanders sposa il quinto marito l'ultimo marito che però dopo cinque anni muore lasciando Moll in povertà nella povertà assoluta che la spinge al furto il furto è come una tentazione da questo momento in poi che attanaglia Moll Flanders che si dimostra molto abile nel rubare senza farsi scoprire a differenza di tanti suoi compagni che vengono scoperti inevitabilmente imprigionati appunto a Newgate e poi condannati a morte quasi tutti per impiccagione con la forca dobbiamo infatti ricordare che questo era il metodo spiccio con il quale in Inghilterra si punivano i malfattori ma non solo all'inizio del Settecento fino a gran parte del Novecento infatti la pena di morte fu abolita in Inghilterra molto dopo rispetto ad altri paesi europei ecco stavamo stavamo dicendo quindi che lei diventa una ladra a questo punto una volta morto questo marito banchiere perché povera in canna diciamo e diventa ladra all'inizio per sopravvivere poi però continua a rubare anche quando non ne avrebbe più l'estrema necessità sta di fatto che dopo essere sfuggita mille volte possiamo dire alla cattura lei un giorno che è entrata in un negozio di argenteria e ha preso proprio dell'argenteria da questo negozio viene fermata dalle figlie del negoziante del proprietario e poi da lì viene arrestata imprigionata a Newgate condannata a morte poi quasi miracolosamente riesce ad ottenere come dire una conversione di questa pena ecco lì a Newgate ritrova l'uomo del Lancashire che era stato il suo quarto marito quello che credeva era convinto che lei fosse ricca poi quando ha scoperto che invece non lo era di fatto si è lasciato con lei e che le racconta tutta quanta la sua vita e le dice appunto che faceva parte di una banda una banda di ladri e infatti loro si ritrovano a Newgate cioè in carcere proprio perché ladri tutte e due Maul riesce però a convincere un sacerdote il prete diciamo dei condannati a morte dei carcerati del suo pentimento e questo sacerdote si dà da fare talmente tanto perché appunto come dicevo prima si è convertita la pena dalla dalla uccisione per impiccagione alla deportazione in Virginia che lei alla fine ottiene questa conversione di pena viene deportata quindi in Virginia e riesce anche oltretutto ad andare sulla nave insieme con il suo ex marito cioè il quarto marito questo uomo dell'Ankashire che ha ritrovato in prigione e che anche lui riesce dal momento che c'era un solo testimone che appunto testimonia contro di lui ce ne volevano almeno due per una condanna a morte per impiccagione anche lui riesce ad ottenere una pena meno definitiva cioè anche lui viene deportato in Virginia insieme con sua moglie possiamo dire di fatto continuavano ad essere marito e moglie lui è vero le aveva detto di essere di ritenersi libera tant'è vero che lei si era sposata un'altra volta ma di fatto poi alla fine si ritrovano in carcere poi si ritrovano sulla nave che li conduce come schiavi come servi diciamo in Virginia ma grazie ai soldi che la sua amica governante che poi era anche una donna alla quale lei quando era diventata ladra dava una parte dei dei soldi insomma che ricavava con la sua arte diciamo con le sue ruberie riesce a farle pervenire dei soldi del denaro in Virginia grazie a questo eredita un appezzamento di terra ah sì scusate grazie a questo diciamo che la sua condizione iniziale di serva migliora sempre di più fino a quando non incontra suo figlio cioè vede da lontano il suo ex marito fratello che però è in condizioni fisiche piuttosto come dire malandate al punto che poi morirà questo marito fratello però lei incontrerà il figlio e incontrando il figlio gli chiede se per caso la madre le ha lasciato qualcosa in eredità si le ha lasciato un appezzamento di terra e con questo appezzamento di terra in Virginia ecco quindi tutta quella storia della colonia d'America insomma della colonia inglese in America come ben sappiamo infatti gran parte degli inglesi che andarono a colonizzare in questo caso la Virginia comunque in generale l'America oppure che andarono a colonizzare l'Australia all'inizio erano semplicemente dei carcerati degli arrestati dei condannati che subirono come condanna appunto questa deportazione questo esilio in America o in Australia sta di fatto comunque che lavorando onestamente i due cioè Mor Flanders e questo suo ritrovato ex marito marito numero 4 dicevamo l'uomo del Lancashire si guadagnano una discreta fortuna grazie alla quale lei riesce a ritornare in Inghilterra a intraprendere una vita onesta all'insegna del pentimento secondo gli insegnamenti di quel prete che aveva incontrato in carcere Defoe delinea in Moll Flanders l'esasperazione e la spregiudicatezza del desiderio di scalata economico sociale nella società inglese settecentesca ecco perché vi parlavo di realismo perché il soldo il denaro diciamo sicuramente ha un ruolo importante in questo romanzo perché vengono indagati e visti diversi strati sociali che lei attraversa Moll Flanders da quelli più alti elevati aristocrazia fino a quelli più bassi addirittura della malavita diciamo di un distrato sociale molto molto umile cioè di chi fa fatica a campare a vivere e quindi si dà appunto al furto per cercare di sopravvivere l'impulso unificatore del romanzo è la volontà di ascesa economico sociale della protagonista abbiamo detto che è un romanzo sicuramente diciamo sociale quindi un romanzo realista è un romanzo che punta sull'attualità ecco del tempo di Daniel Defoe ecco potremmo definirlo un romanzo femminista non so fino a che punto certamente però c'è la grande volontà di ascesa economico sociale della protagonista di rendersi autonoma di essere libera e c'è sempre un asse di equilibrio molto instabile tra la libertà che lei agogna desidera da una parte e la servitù la schiavitù nella quale spesso nel corso della sua vita viene in vario modo diciamo a cadere fino appunto diciamo al carcere risulta quindi fondamentale lo studio del rapporto tra Maul Flanders e la società abbiamo già detto è anche un quadro della società londinese britannica inglese addirittura dicevamo anche americana del settecento per quanto riguarda ecco diciamo così tentativo di critica insomma di questo romanzo e quindi di giudizio complessivo su questo romanzo una certa Marina Grossi individua tre principali fasi in questo instabile rapporto di Maul Flanders con la società ogni fase è annunciata da un momento di crisi in cui la protagonista affronta le minacce della società la società è sempre vista come qualcosa con cui lottare per poter per potersi in qualche modo affermare ecco dicevamo la prima minaccia è la nascita nascita a Newgate nasce in prigione proprio nasce come emarginata a questo punto abbiamo la scoperta dei valori della società e il tentativo di raggiungerli con il matrimonio il matrimonio costituisce per Maul Flanders il mezzo principale come effettivamente probabilmente questo era per le donne nei secoli in quei secoli là pensiamo anche ai romanzi di Jane Austen a riguardo il matrimonio può essere il tentativo in mezzo allo strumento attraverso il quale raggiungere un grado sociale più elevato una condizione sociale migliore poi abbiamo però la morte del marito e la conseguente povertà aveva sposato un marito che le aveva dato anche una condizione più che dignitosa più che accettabile ma il fatto che lui sia morto l'ha messa in una condizione di instabilità economica che l'ha costretta a diventare ladra c'è quindi la delusione per quei valori e la ricerca di sicurezza economica diventando ladra appunto in particolar modo dicevamo questo alla morte del quinto marito era successo questo quando lei non ha da mangiare essenzialmente è costretta a fare la ladra poi però scopre di essere brava a fare la ladra e quindi continua a farla anche quando potrebbe magari fermarsi prima a questo punto abbiamo comunque la fine di tutta questa vicenda tentativi anche di scappare dalle grinfie della giustizia abbiamo l'imprigionamento a Newgate e quindi l'allontanamento definitivo dalla società che vuole far fuori anche proprio fisicamente all'inizio Maul Flanders condannandola all'impiccagione ma poi diciamo la fortuna l'ostinazione la determinazione di Maul Flanders le permette di trovare un'altra soluzione e la rinascita morale e materiale con la deportazione in Virgilia col suo quarto marito quindi morto il quinto marito lei diventa povera diventa ladra viene imprigionata e ritrova il suo quarto marito la protagonista indiscussa appunto è lei e questo è già comunque una cosa importante senza altro che una donna sia protagonista di un romanzo non è così scontato Maul Flanders è da molti ritenuto il più animato dei personaggi creati da Defoe che si trova infatti a combattere un'esternuante lotta in cui il fine giustifica i mezzi qualunque essi siano anche i mezzi potrebbero essere quelli di dicevamo di delinquere di fare la ladra ma il fine è quello buono di sopravvivere ecco abbiamo una percezione complessa e contraddittoria di Maul Flanders lei stessa ha una percezione complessa e contraddittoria di se stessa ecco perché dicevamo che è un romanzo moderno anzitutto c'è una doppia Maul Flanders la narratrice settantenne diciamo che rivede tutta quanta la sua vita e il personaggio perché ripercorre tutte le fasi della sua vita fin dall'infanzia età comunque già nella quale si intravede una certa sua determinazione poi la giovinezza e via discorrendo fino ad arrivare appunto all'età in cui lei insomma si ritira in Inghilterra a settant'anni finalmente termina queste traversie come narratrice sono molte le autoaccuse che si alternano però un tono apologetico di difesa cioè di giustificazione di quello che lei ha fatto nel corso della sua vita che fa dipendere le colpe sempre e solo dalle circostanze ecco perché vi dicevo un po' anticipa se vogliamo anche certi romanzi dell'ottocento perché ci presenta una situazione sociale in cui chi è povero è costretto anche ad agire in certi modi o quantomeno le giustifica certi come dire certe azioni che ha fatto nel corso della sua vita come rubare come personaggio evidenzia il suo isolamento dal resto della società e si vede spesso dissociata dalle sue stesse azioni e scopre di fare delle cose delle quali lei stessa non è contenta la sua vita è ricca di angosce di tormenti assolutamente coerente con la vivacità tipicamente borghese dell'Inghilterra dell'epoca del settecento ecco dicevamo la società inglese del diciottesimo secolo la società in cui Moll agisce si identifica in un meccanismo al quale non è possibile sottrarsi lei è come una specie di ingranaggio dentro una macchina non può fare altro se non quello che fa ecco perché vi dicevo se vogliamo un po' precorrere il naturalismo il verismo e tante tendenze insomma letterarie dell'ottocento lei non ha una dote quindi deve comprarsi il marito riuscire a a trovare un marito anche se non ha una dote sfrutta senza altro la sua bellezza riesce a vendere se stessa il matrimonio è l'unica soluzione per un riscatto sociale per lei un brano tratto dal romanzo proprio e se una ragazza ha bellezza nascita educazione spirito intelligenza perché dobbiamo dire una cosa lei comunque era stata fortunata perché pur essendo nata in un carcere aveva poi incontrato chi era stata in grado di educarla maniere e modesti è tutta al massimo grado ma non ha quattrini beh non è nessuno è come se non avesse niente quel che vale in una donna oggi è solo il denaro ecco perché vi dicevo è così interessante questo romanzo ci vengono in mente ovviamente tanti romanzi addirittura di Zola oppure di Verga su questo aspetto su questo meccanismo del denaro per cui tu sei vali in base a quanto denaro hai c'è l'evidenza del ruolo del denaro per l'ascesa sociale per la collocazione sociale dell'uomo e della donna Defoe ha forse dipinto un ritratto del capitalismo infatti dobbiamo sapere ricordare che l'Inghilterra del settecento è anche una nazione in fermento per via di quegli aspetti economici e sociali che preludono a quella che poi sarà la rivoluzione industriale e comunque la classe della borghesia in questo paese nella Inghilterra assorge subito un ruolo fondamentale all'interno della società ecco stavamo parlando prima dei nomi l'analisi dello stile retorico del romanzo è indispensabile per comprendere pienamente il rapporto tra Moll e la società in particolar modo ciò che Mary Butler definisce onomafobia permette di chiarire in maniera concreta l'evolversi della visione di Moll della società stessa cioè il semplice fatto che all'interno del romanzo manchino i nomi dicevamo gli uomini il primo marito il fratello minore il fratello maggiore già potrebbe evidenziare ancora di più quell'aspetto di cui abbiamo parlato prima cioè la mancanza di un valore dell'individuo in quanto tale se non per quello che lo caratterizza da un punto di vista economico dicevamo prima il denaro o l'appartenenza a una determinata classe sociale c'è quindi in questo romanzo più che in qualsiasi altro potremmo dire una avversione una repulsione una paura per i nomi onomafobia paura per i nomi Moll fa riferimento all'incredibile variegato mosaico del personaggio attraverso il ruolo familiare e la madre quella che la concepita la partorita in carcere che poi era diventata suocera sua addirittura e il fratello fratello marito il primo marito il secondo marito la governante ecco infatti l'occupazione certe volte appunto una persona viene denominata in base al lavoro che fa la governante la serva la schiava lo status sociale raramente o quasi mai in questo romanzo infatti si utilizzano i nomi propri persino lo stesso nome di Moll Flanders forse non corrisponde al suo vero nome in realtà questo artificio letterario non si limita alla semplice pura identificazione ma mostra anche l'evolversi del contrastante rapporto tra Moll e società per esempio Moll aiuta una giovane donna a sposarsi con il capitano di una nave una giovane signora vicina di casa mia la mia intima amica la mia cara e fedele amica moglie del capitano eccetera come vedete in tutte queste citazioni tratte dal romanzo non è mai citato il nome proprio la stessa Moll identifica se stessa con lo stesso espediente la Moll narratrice che definisce Moll bambina una povera derelitta senza amici non c'è nessun concreto profitto ad esempio nell'essere bambina e la Moll bambina si autodefinisce non sono altro che una bambina però lei lo dice la Moll bambina dicendo dovete difendermi non dovete infierire contro di me io sono una bambina quindi voi dovete proteggermi invece la narratrice riferisce questa prima parte della sua vita puntando molto sul fatto che lei quando era bambina era proprio senza nessuno che la aiutasse durante l'infanzia per esempio nelle prime pagine del romanzo è già possibile scoprire alcuni indizi sull'impossibilità di Moll Flanders di entrare a far parte della società per esempio la Moll bambina e gli adulti dibattono a lungo circa il significato dell'essere una gentlewoman il ruolo sociale che la protagonista sogna di ricoprire ecco infatti molto importante questo termine gentlewoman viene tradotto nella traduzione italiana essere una signora ora non si intende la Moll Flanders bambina con gli adulti che la circondano lei a un certo punto dice voglio essere una signora e gli adulti che la circondano si mettono a ridere perché sanno che lei è una trovatella insomma è una come dire senza senza genitori perché la madre la madre praticamente dopo averla partorita in carcere è stata deportata in Virginia e quindi senza genitori senza nessuno quasi una specie di orfanella che deve essere affidata alla parrocchia e a chi insomma vuole accollarsi questo questa bambina insomma come potrebbe pretendere di essere una signora ma lei per lei essere una signora voleva dire lavorare per conto mio guadagnare abbastanza da vivere senza andare a servizio andare a servizio voleva dire fare la serva la facchina lavorare per altri mentre lei voleva essere indipendente mentre per la società essere una signora per loro essere una signora una gentle woman significava fare la gran vita e chissà che altro ecco perché si mettevano a ridere perché non avevano capito che cosa intendeva la bambina Moll Flanders per essere una signora per lei sarebbe stato sufficiente essere indipendente essere autonoma e non andare a servizio procurarsi da vivere ad esempio col cucito con l'ornato lavorando il filo l'ago il filo invece loro gli adulti pensavano questa qui ha dei grilli in testa è una poveraccia proprio e vorrebbe essere una signora cioè nel senso di una gran signora cioè fare una gran vita potersi permettere appunto di frequentare i grandi ambienti esempio aristocratici durante la giovinezza l'esasperato e spregiudicato desiderio di molti integrazione nella società raggiunge il suo acme da prima con l'incesto non fui molto toccata dal crimine in sé che riuscì a nascondere per tre anni ecco una volta comunque l'abbiamo spiegato una volta che lei capì intuì quando andò in Virginia che aveva sposato il fratello comunque non lo disse subito e per tre anni continuò a fare una farsa diciamo cioè continuò a nascondere questo rapporto di fratellanza che aveva col marito poi ancora più avanti come ladra cioè dicevamo che lei vuole talmente tanto essere integrata nella società che nel caso di quel marito che era il fratello nasconde questo fatto riesce a farlo per tre anni poi dopo non ce la fa più e lo rivela prima la madre e poi il fratello ma nasconde questo per poter continuare a vivere quella vita onorevole onorabile che stava vivendo lì in Virginia ancora più avanti come ladra quando precipita nella povertà Mol deve sostenere un delicatissimo scontro moralità versus sopravvivenza è chiaro che per poter sopravvivere deve varcare i limiti della morale deve diventare una ladra e deve giustificare anche questo fatto e la deve dipendere totalmente dal proprio ingegno e giudizio e affrontare ciascuna emergenza mediante una morale pratica che si è forgiata da sola nella testa scrive Virginia Woolf sicuramente è colpita Virginia Woolf da questo romanzo di Daniel Defoe e dal personaggio proprio di questa protagonista femminile dopo l'arrivo in Virginia la relazione tra Moor Flanders e la società finalmente si interrompe è una guerra senza vincitori né vinti o con entrambi poiché le due antitetiche polarità possono risolversi solo rimuovendo la frontiera della vecchia Europa verso la mitica America e in questo quindi in questa lotta continua di Moor Flanders con la società in un certo senso l'America la Virginia che era stata nel suo primo viaggio un dramma una tragedia perché c'era andata lì con il marito e poi andando lì aveva scoperto che il marito era suo fratello dicevamo la seconda volta che ci arriva invece rappresenta un salto un passaggio importante abbiamo detto che questo romanzo viene scritto più di 50 anni prima dell'indipendenza della guerra insomma fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra la Virginia così come le altre colonie che si affacciavano sull'oceano Atlantico era una colonia appunto inglese ma l'Inghilterra è un mondo vecchio è solo il mondo nuovo che permette in questo caso di risolvere questo dilemma questo contrasto fra Moll e la società finalmente la guerra finisce tra Moll e la società solamente appunto quando lei ritorna in Virginia questa volta però con un marito che non è suo fratello e riesce a costruirsi finalmente quella vita dignitosa che ha ricercato per tutta quanta la sua esistenza l'America è nuova è un mondo nuovo che per lei come per molti altri prima e dopo di lei rappresenta la possibilità di sciogliere questo conflitto con la società di costruirsi una nuova vita altri video didattici su a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it